Bella raga sono Femme Marulli e oggi farò il quarto video sul mio canale e si chiama Vladimir a 360 gradi mi spazzerò un sacco facciamo in Italia perché adesso non vado a vedere come si chiama questi 360 gradi sono un po' Bloody Mary Spavendoso E porca vita mi sto fomentino mi sto fomentino da paura porca puttana no No il JAMScair non lo voglio porca puttana no 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 non lo voglio Già hai visto oggi il T3NG ragazzi non lo voglio avere il JAMScair Mi rendete conto che è un pavore? No il campanello no per favore Ma siete pazzi Cristo Porca puttana vergine Mari Quindi raga ci vediamo sempre già